Guide morali a orientarci nella scelta fra il bene e il male. Sono i giusti fra le nazioni, persone che nei drammatici anni della Seconda Guerra Mondiale operarono una netta scelta e, contro la legislazione antisemita e la politica di sterminio del regime nazifascista, protessero e salvarono uomini, donne e bambini ebrei. I cittadini italiani riconosciuti giusti fra le nazioni sono circa 700. Da oggi all'elenco si aggiungono anche i nomi di Mario De Nardis e Pancrazio De Lauretis. Il primo era impiegato presso la questura dell'Aquila, dove era responsabile degli ebrei internati nell'aria, e il secondo era a podestà di Carapelle Calviso. Entrambi si adoperarono per assicurare la vita delle famiglie Billig, Fleshman e Dagan, salvandole dai rastrellamenti delle truppe naziste in Abruzzo. La cerimonia per l'attribuzione della più alta onorificenza civile dello Stato di Israele si è svolta stamattina nell'auditorium Renzo Piano dell'Aquila. Nella scia di quelle attività di memoria che una città come l'Aquila non può non tenere in considerazione. In particolare questa è una giornata molto importante anche per le presenze eccellenti, ma soprattutto per il ricordo di questi due eroi che entreranno a fa parte a pieno titolo dei giusti tra le nazioni. Se c'è una lezione dell'Alocausto, e non penso come storico, filosofico, intellettuale, che possiamo avere una conclusione di questo orrore, ma c'è una lezione pratica di questo orrore dell'Alocausto è che il popolo ebraico deve difendere, deve avere uno focolare nazionale, non essere homeless, uno Stato per difenderlo. Adesso abbiamo anche centinaia di migliaia di ebrei anche in Ucraina, che lo Stato di Israele preoccupa e vuole aiutarli. Allora adesso in questo momento della storia le regole del gioco hanno cambiato.